buongiorno a tutti i miei cecci rituati che con un nuovo video allora è vero che ho passato un bel po di tempo a non farvi video ma purtroppo con il lavoro e tutto non riuscivo a registrare non riuscivo a fare nulla però sono tornata è vero che sono tornata e qui oggi vi farò vedere i video acquisti di venezia se non avete visto il blog che sono stato una notte a venezia andate a recuperare perché il video c'è del blog e ora vi faccio vedere gli acquisti non ho acquistato tantissimo perché i negozi quando eravamo arrivati stavano chiudendo ma sono riusciti a questare il cappellino che sapete che in ogni gita che faccio se c'è il cappellino del posto lo prendo bellissimo tra l'altro che ho scritto venezia e la gondola dietro semplicissimo fatto di rete la visiera curva ed ecco qua il cappellino di venezia poi altro acquisto che sto facendo in questo periodo mi sono anche punta che mi piace molto in questo periodo è la e sono le come si chiamano le spille non mi minimo il nome eccola qua in tutto il suo splendore guardate come carina la gondola e la spilla che attacco nel mio zaino in cui mi porto sempre dietro nelle gite o di giorno quando vado in prendo le spille dei vari posti in cui vado niente questo era tutto non era un video lunghissimo per gli acquisti di venezia ma è infatti i negozi come ho detto prima stavano chiudendo per via dell'orario ma ci sta perché era quasi pronotte quasi mezzanotte niente noi ci vediamo qui sul mio canale con un prossimo video ciao a tutti